Questa volta vorrei riprendere delle slide appena utilizzate questa mattina proprio per un esercizio intorno, una riflessione, un esercizio intorno al testo della parafrasi. Dopo un passaggio iniziale in cui ripeteremo a livello teorico le fasi di cui si compone la costruzione di una parafrasi, il metodo da seguire insomma, passeremo alla fase forse più interessante e produttiva che è quella di un esercizio pratico e concreto. Vediamo allora come si fa una parafrasi strutturando i passaggi, anche se si tratta di pura teoria, tante volte sappiamo che dalla teoria alla pratica i punti di una scaletta si possono leggermente sovrapporre, le pratiche si inglobano l'una nell'altra, si sovrappongono, si increspano e va bene così, ma intanto chiariamoci l'idea mantenendo un profilo schematico. Il primo passaggio è evidentemente quello della lettura del testo. Per capire un brano, per capire anche i dettagli di un brano, è necessario leggere completamente tutto quanto il testo a nostra disposizione. E' questo il circolo ermeneutico che ci fa passare sempre dal globale al particolare. Il particolare si illumina, si carica di significato proprio se ben orientato rispetto al testo complessivo. Io amo ricordare ai miei studenti che per esempio la totalità di un testo è sempre anche superiore alle sue parti, quindi ogni volta che scomponiamo, che dividiamo in livelli, che compiamo insomma un gesto di analisi e di separazione, abbiamo sempre un decadimento delle virtù del testo. Ma è un lavoro necessario e propedeutico, poi invece al godimento estetico, alla lettura complessiva del testo che si fa organicamente vivo e sorprendente, superiore insomma ai dettagli. Ma dobbiamo restare, come dicevo, dentro questo circolo ermeneutico, guardare alla globalità e fissare anche i dettagli, in modo da renderli coerenti. Quindi leggiamo più volte, cerchiamo di chiederci cos'è che accade, confidiamo nelle nostre capacità di capire, di intuire chi sono i protagonisti, quali sono le scene, le immagini che nella mia testa in qualche modo si fanno nitide. Magari tutto questo è anche utile per circoscrivere quelle che sono delle zone d'ombra, per capacitarci, renderci consapevoli anche di non aver capito determinate zone, ma forse di avere delle intuizioni complessive che ci sembrano tutto sommato abbastanza sfruttabili. Ricordiamoci anche che tante volte, nella maggior parte dei casi, noi eseguiamo questo esercizio utilizzando per esempio dei libri scolastici e quindi già subito siamo aiutati, abbiamo già delle note che ci illuminano in qualche tratto, in qualche passaggio. E abbiamo anche la possibilità di ricorrere a dizionari. Però è importante davvero capire che dobbiamo prendere fiducia in noi stessi, nella nostra voglia di stare sul testo, di farci lavorare dal testo, leggendolo e rileggendolo più volte, per cercare di comprenderlo almeno nella sua totalità. E poi passeremo alla fase successiva. E la fase successiva si fa un po' più tecnica e forse un po' più ostica, perché si tratta di giungere ad una interpretazione grammaticale. Dobbiamo in effetti trovare le frasi più importanti, la frase principale e darne una struttura, quindi ricostruire il verbo, ritrovare il verbo principale e il suo soggetto. Da lì a catena ovviamente il complemento oggetto, anzitutto se è possibile trovarlo, e poi gli eventuali altri complementi. In questa operazione è importante non farsi trarre in inganno dalla struttura della poesia, insomma dalla versificazione, dalla metrica. Dobbiamo proprio pensare al testo nella sua organicità grammaticale e sintattica. Nella nostra testa, man mano che ritroviamo questi elementi portanti, dobbiamo ricostruire la frase principale nel suo ordine sintattico standard, cioè S-V-O-L, come usano a dire molti linguisti, quindi mettendo anzitutto il soggetto, poi il verbo, il complemento oggetto e gli altri complementi. Qui mettiamo subito un asterisco, una precisazione. La lingua italiana è abbastanza mobile, quindi permette strutture molto varie, che in effetti appunto la poesia sfrutta piacere per i suoi effetti di senso. Ma anche tante volte nella naturalezza del nostro parlato più semplice, non seguiamo esattamente questo schema, ma teniamolo presente ed è, diciamo così, lo standard verso il quale dobbiamo orientarci e adattarci il più possibile. Ovviamente questa operazione di ricostruire la struttura grammaticale, almeno nel suo impianto fondamentale, non va applicata soltanto alla frase principale, ma a ruota anche con tutte le frasi collegate e che seguono, insomma. Eccoci al punto 3. Abbiamo lavorato sulla grammatica, adesso passiamo, almeno mentalmente o magari già anche riscrivendo, ad un testo che viene davvero ricostruito. Rimettiamo in ordine le parole, i termini, i sintagmi, in modo da passare decisamente alla prosa, aggiustando magari subito tutto ciò che ci viene facile aggiustare, la grafia, le parole che tutto sommato ormai si comprendono, sono già di primo acchito abbastanza semplici da intuire, e così via. Dobbiamo anche, magari, se ci imbattiamo in qualche immagine, qualche figura retorica determinante, per esempio un'allegoria, una metafora che è strutturale per comprendere il testo, magari subito spiegarla, identificarla, capire di che cosa si tratta, perché altrimenti non capiremmo subito tutto il testo. Alla fine di questo passaggio dovremo poter, ovviamente, rileggere il nostro testo in prosa, ricostruito, e il senso non sarà magari del tutto chiaro, ma dovrebbe già apparire più comprensibile, e di sostituzioni, in fondo, non abbiamo fatte poi molte, abbiamo davvero soltanto lavorato su una ricostruzione sintattica del testo. Quindi possiamo riprendere il circolo ermeneutico, rileggere ancora una volta globalmente, per tornare ai dettagli più difficili, e passare quindi al punto quarto. Nella nostra scaletta, il punto quattro, è proprio quello di mettere a fuoco i dettagli. A questo punto si tratta davvero di lavorare, abbiamo accerchiato, e magari già assediato, ridotto il più possibile le parti, le zone buie. Adesso buttiamoci davvero sulle parole che ci sembrano veramente difficili, quelle meno comuni, o che sono davvero desuete, magari tipiche proprio della poesia, o semplicemente del tempo storico a cui appartiene il testo che abbiamo davanti. Dobbiamo anche identificare tutte le figure retoriche, non soltanto quelle portanti, e scioglierle, almeno nella nostra testa, nel nostro significato. E a questo punto sfruttiamo fino in fondo tutte le risorse, e quindi anche le note che accompagnano il testo, magari per cogliere delle sfumature che prima ci sfuggivano, anche perché magari nascono da informazioni che non potevamo effettivamente avere, che si tratti di riferimenti a personaggi, o a qualche sfumatura linguistica che non ci è propria, non ci appartiene più. Siamo così in dirittura d'arrivo, e possiamo dedicarci veramente all'ultimo passaggio. E dico ultimo, ben sapendo però che, come vi ho detto, molti di questi punti della scaletta magari vanno anche ripetuti ciclicamente. Il fatto sta che l'ultimo passaggio è quello davvero di riscrivere il testo con parole che ci appartengono, che sono semplici, lineari. In effetti, non dobbiamo assolutamente preoccuparci di scrivere un bel testo, un testo elegante. La parafrasi è solo un testo di servizio, serve solo per agganciarci, per lanciarci come un trampolino, o essere attraversabile come un ponte, per portarci alla bellezza della poesia, che in qualche modo rimane sempre altro. È un testo, come dicevamo, vivo, totale, completo, e quindi è molto, 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 inesauribilmente più ricco della nostra parafrasi, che però, come testo appunto di servizio, ha delle caratteristiche che dobbiamo rispettare, umilissimi ma fondamentali. Sono quelli della chiarezza, il testo che ho davanti a questo punto davvero si comprende, e poi il fatto che sia anche un testo autosufficiente. Non ho più bisogno di note, piuttosto, se proprio c'è qualcosa da chiarire, ecco, aggiungo eventualmente nel testo, certo, il meno possibile, ma aggiungo, magari fra parentesi, quell'ultimo aiuto per comprendere che magari esula effettivamente, era implicito nel testo originale. Prima di passare però alla fase più succulenta di questo percorso, cioè l'esercitazione vera e propria, soffermiamoci su alcune precisazioni doverose. Non esiste un trucco per facilitare l'apprendimento delle tecniche per parafrasare un testo. Solo il costante esercizio può abilitarci, magari forse addirittura renderci competenti in questa proprietà, in questa capacità. Ed è quindi bene ricordarci che la parafrasi è necessaria sempre, è il primo punto della comprensione, la comprensione letterale. Qualsiasi testo che dobbiamo studiare deve essere almeno mentalmente parafrasato, dobbiamo farlo nostro, dobbiamo, diciamolo proprio in modo semplice, capirlo, almeno nel suo primo livello, quello letterale. Certo, in classe, tutte le volte che può, il docente illustra, guida la parafrasi, ed è bene che ci siano diverse occasioni in cui lo fa bene, lentamente, ma tanti testi che magari si devono affrontare durante l'anno scolastico, ma anche giustamente per stimolare gli studenti in questo lavoro, che deve diventare inevitabilmente personale, il docente si limita, per esempio, a soffermarsi soltanto sui passaggi più oscuri. E poi, diciamocelo, la verità è che se anche il docente parafrasasse tutto quanto, lo studente rischia di rimanere passivo di fronte a questo lavoro e quindi non impara nulla. Immaginate di mettervi braccia concerti a guardare le spalle di un insegnante che la lavagna, magari in matematica, svolge migliaia e migliaia di operazioni, pensereste in quel caso di andare a casa e dire, bene, ho imparato, so come si fanno le espressioni o qualsiasi altro calcolo abbiate visto eseguire, ma direi proprio di no. Allo stesso modo, per quanto riguarda la parafrasi, occorre metterci testa, dobbiamo trasformarla in un esercizio personale. D'altronde, anche l'insegnante potrebbe essere sostituito da una parafrasi già bella e pronta che potremmo trovare ormai ai nostri giorni comodamente sul web. E a che serve? Finiremo per studiare la memoria? Direi di no. Siamo persone intelligenti, trattiamoci come persone intelligenti, sappiamo che dobbiamo fare uno sforzo per diventare capaci di fare qualcosa, ma non cerchiamo trucchi. Serve più umiliante, mortificante, mettersi a leggere una parafrasi, studiarla a memoria per cercare di far finta di aver capito un testo che in fondo ci ha impaurito. E tuttavia non dobbiamo nemmeno scandalizzarci dalla possibilità che abbiamo di accostare il testo che dobbiamo noi comprendere il più possibile magari ad una parafrasi già pronta. L'importante è rimanere attivi in questa operazione, cioè guardare la parafrasi per facilitare il lavoro precedente o chiedere proprio aiuto quando si fa arduo in alcuni passaggi particolarmente intricati. Non si può lavorare su tutti i versi magari con una precisione che adesso cercheremo di mettere in pratica attraverso un esempio. Quindi benvenga anche l'utilizzo di una parafrasi già pronta purché sia utilizzata con consapevolezza e con responsabilità. È un aiuto certamente utile, ma l'esercizio, il sacrosanto esercizio di parafrasare, di utilizzare la nostra testa per affrontare, rimasticare, ristrutturare e capire il testo che abbiamo davanti non si può evitare. Ma eccoci alla parte più interessante e più utile quella di vedere davvero nella pratica come agire seguendo la scaletta che abbiamo definito. Il testo che ho scelto riguarda proprio l'esperienza scolastica che dovevamo affrontare. Dovevamo leggere il canto terzo del Paradiso e allora ho preso proprio le prime tre terzine di questo canto. Quindi non ho scelto un testo apposito per dimostrare niente. Mi sono basato decisamente sull'esperienza scolastica che in questo caso dovevamo già affrontare. Come ho spiegato il primo passo è la lettura. In verità la lettura complessiva del testo non la raggiungeremo neanche se leggessimo l'intero canto perché in effetti questo canto è già una parte di un tutto. Dovremmo conoscere l'intero poema per poter meglio gustare anche ogni suo singolo dettaglio. Va bene, non esageriamo. Ma teniamo presente quella che può essere almeno la contestualizzazione. Arriviamo da un canto precedente insomma ed è fondamentale saperlo è fondamentale contestualizzare quello che stiamo per leggere arriviamo, dicevamo, da un canto precedente in cui Beatrice aveva appena spiegato a Dante l'origine delle macchie lunari discutendo con lui intorno alle teorie false che Dante aveva in testa. Adesso quindi compiamo il primo passaggio del nostro lavoro in vista della parafrasi ed è quello semplice di leggere il testo. Ora, io proverò a leggerlo come se fossi non so se mi riesce non è così semplice come se fosse uno studente che non ha mai visto e che non sa il significato di quello che sta leggendo quindi proverò a commettere qualche errore magari tipico vediamo se mi riesce. quel sol che pria d'amore mi scaldò il petto di bella verità mi aveva scoverto provando e riprovando il dolce aspetto e io per confessare corretto e certo me stesso tanto quanto si convenne leva il capo a proferer più erto ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto per vedersi che di mia confessione non mi sovvenne. Beh, mi sa che ci sono riuscito perché forse nemmeno io ho capito più nulla leggendo in questo modo tutto si complica e non è raro vedere degli insegnanti che già ad una prima lettura di uno studente hanno in mente già la valutazione che dovranno dare sempre che addirittura non preferiscono rimandare al posto il malcapitato perché appunto già una lettura dimostra pienamente se uno ha compreso o no il significato di quello che sta leggendo come ho spiegato questo primo passaggio della lettura andrebbe anche ripetuto più volte vi lascio il libro di farlo ma in questo caso io procedo con quello che sarebbe il secondo punto cioè quello di arrivare ad una interpretazione grammaticale perché se lo comprendo grammaticalmente potrò rispettarne la struttura essere insomma davvero più semplicemente corretto e allora devo cercare quella che è la frase principale identificando bene il verbo che mi indicherà a sua volta il soggetto l'eventuale complemento oggetto attorno al quale poi dopo far ruotare tutte le altre espansioni tutti gli altri complementi peraltro il testo che mi è capitato adesso come esempio è abbastanza ordinato avrete forse almeno percepito questo che la prima la seconda e la terza strofa sono abbastanza a sé stanti e lo dimostra anche abbastanza bene la punteggiatura questa osservazione mi fa venire però in mente anche una domanda intelligente che mi aveva posto uno studente questa mattina e mi chiedeva proprio ma professore nella parafrasi è necessario rispettare la punteggiatura che noi abbiamo davanti no ho risposto non è necessario quello che è importante essere corretti e quello di quindi ripetere bene il senso se poi questa ripetizione mi rende e mi suggerisce di cambiare leggermente la punteggiatura lo si faccia pure anche se ripeto ovviamente è bene laddove si può rispettare in tutto e per tutto il testo originale a dire la verità ho anche fatto notare che ci stiamo ponendo un problema che nemmeno esiste per certi aspetti perché quello che abbiamo davanti non è il testo di Dante nel senso che è di suo pugno ed è di suo pugno quindi anche la punteggiatura ci troviamo di fronte ad una interpretazione da parte del filologo di turno e quindi avremmo potuto trovare forse anche delle scelte diverse adesso non so se sono io che ho copiato male velocemente ma per esempio mi era capitato di notare che in fondo io aggiungerei una virgola in questa lettura al primo verso ci siamo resi conto forse abbiamo già capito che abbiamo una frase relativa che a un certo punto si innesta nella principale e allora andrebbe questa frase circoscritta con due virgole quel sol che pria d'amore mi scaldò il petto ecco con queste due virgole forse già si chiarisce un pochino il senso del testo comunque lo ripetiamo cerchiamo di rimanere più possibile vicino al testo originale ma anche la punteggiatura può essere tranquillamente rivista purché tutto risulti comunque corretto e rispettoso dell'originale nel suo senso nel significato di quello che si vuole che si deve comprendere ecco chi vuole adesso provare a compiere questo esercizio può stoppare il video e cercare proprio di identificare le principali i verbi e così via come abbiamo detto potete dovete farlo anche per ogni per ogni strofa trovate per ogni strofa quelle che sono quelli che sono i verbi portanti principali ecco il risultato per quelli pochi dubito davvero che ce ne siano poi molti che abbiano davvero svolto l'esercizio eccoci di fronte a quello che potrebbe essere il risultato la prima strofa ruota attorno ad un verbo principale ma avea scoverto il soggetto lo comprendo abbastanza agevolmente spero era quel sol quel sol ma avea scoverto ma avea scoverto che cosa? il dolce aspetto se riesco a ricostruire questa struttura adesso la mia lettura può cambiare totalmente posso legare sintaticamente bene tutta la prima strofa e anche il dolce aspetto è legato fino alla prima parola provo a rileggere adesso questa prima strofa per dimostrare quello che ho detto facendo capire che questo il dolce aspetto alla fine invece è già già legato con tutto ciò che lo precede quel sol che pria d'amore mi scaldò il petto di bella verità ma avea scoverto provando riprovando il dolce aspetto forse a questo punto già qualcosa si chiarisce ulteriormente guardiamo la strofa successiva e io il verbo principale dov'è? il verbo legato a questo soggetto e io le va il capo non era difficile forse da trovare rileggiamo allora questa strofa e io per confessare corretto e certo me stesso tanto quanto si convenne le va il capo a proferer più erto e l'ultima strofa rimane tutto sommato abbastanza semplice perché la frase principale era proprio all'inizio ma visione apparve che ritenne assieme tanto stretto per vedersi che di mia confessione non mi sovvenne a questo punto possiamo procedere e si tratta di davvero ricostruire il testo rimetterlo in un ordine più ponsono alla nostra oralità alla nostra fluenza attuale e passando decisamente con coraggio alla prosa non guardiamo più gli a capo leghiamo i termini secondo una strutturazione semplice e naturale vi invito anche in questo caso allora a bloccare il video e provare almeno a pensarci a farlo almeno mentalmente ecco il risultato potrebbe essere un risultato possibile è questo quel sole e fra parentesi svelo l'allegoria portante il fatto che quel sole era proprio la Beatrice che nel canto precedente mi aveva spiegato aveva spiegato a Dante il significato delle macchie lunari quel sole Beatrice che prima mi scaldò il petto d'amore mi aveva scoperto il dolce aspetto di bella verità provando e riprovando e io leva il capo più erto a proferire tanto quanto si convenne per confessare me stesso corretto e certo ma apparve visione che per vedersi meritenne a sé tanto stretto che non mi sovvenne di mia confessione non ho ancora cambiato praticamente nulla ho appena aggiustato qualche verbo e qualche espressione ma non ci sono vere sostituzioni ho appena ricostruito il testo nel suo ordine sintattico più naturale in una delle sue versioni possibili e riletto tutto come se fosse realmente prosa eppure dovremmo aver già fatto un balzo in avanti nella comprensione decisivo ricordiamoci che ovviamente le soluzioni a questo punto sono varie ovviamente ci troviamo per esempio di fronte ad una relativa che andava mantenuta probabilmente nella sua posizione cioè che interrompe ancora la frase principale così come qualcun altro avrebbe invece giusto per fare un ulteriore esempio magari scelto di far anticipare la finale per confessare me stesso corretto e certo rispetto all'azione che poi si va a compiere principale e io elevai il capo per confessare me stesso levai il capo ci sta va benissimo anche in questi termini le soluzioni sono varie ma l'importante è di aver raggiunto una naturalezza ed una semplicità insomma una vicinanza decisamente con il nostro linguaggio più semplice più quotidiano procediamo a questo punto con il passaggio successivo si tratta di assediare aggredire circoscrivere le zone più dubbie ancora e di sciogliere le metafore e di cambiare quello che possiamo cambiare per semplificare ulteriormente io vi sottolino alcuni passaggi per esempio potremmo partire da questo scaldare il petto d'amore cosa significa che Beatrice prima mi scaldò il petto d'amore beh l'immagine è abbastanza semplice evidente ci verrebbe forse anche da utilizzare così in un linguaggio abbastanza quotidiano ma ebbene per aiutarci a cogliere il significato completo del testo laddove si può aggiungere ulteriori luci semplificare ulteriormente ne guadagnerà forse non il singolo dettaglio ma l'insieme ancora una volta e quindi con coraggio anche qui semplifichiamo come sostituireste scaldare il petto d'amore trovate voi un'espressione pensateci e poi provate a sostituire anche questo provando e riprovando perché direte voi perché sembrerebbe tutto sommato abbastanza chiaro è qui forse le note e anche la contestualizzazione ci aiutano Beatrice aveva appena compiuto abbiamo detto una dimostrazione scientifica nel canto precedente e allora dobbiamo scoprire che questo provando e riprovando non significa facendo un tentativo e poi un altro così più o meno casuali ma sono proprio le procedure tecniche utilizzate dal suo saggio diciamo così dalla sua dimostrazione scientifica e allora noi quali termini quali fasi indicheremmo in una dimostrazione scientifica prima provo e poi riprovo in che senso quali sono i termini che useremmo noi provate a risolvere anche questo quesito e poi sostituite anche un termine come proferire perché è semplice lo capiamo viene facile qui la risposta ma come ho detto aggiungiamo luce complessivamente anche qualche piccolo dettaglio tutto in qualche modo ne risentirà si farà tutto più scorrevole proferire come lo sostituiamo facile non dovrebbe essere difficile nemmeno questa immagine cos'è il capo erto capo lo sostituiamo in modo facile ma anche questo compiamo questo passaggio perché tutto sommato nel nostro linguaggio più comune non utilizziamo queste espressioni non diciamo capo non sempre erto cosa significa ergersi cosa sarà un capo erto non è difficile però sostituiamo anche questo termine così come vi chiedo di sostituire questo sovvenne wow poeticissimo questo sovvenne quasi come se fosse un venire da sotto un prendere di nascosto nella nostra memoria non importa si comprende ma sostituitelo qui mi viene in mente mentre mi chiedo tutte queste sostituzioni una domanda una riflessione di un'alunna che diceva ma devo sostituire tutte le parole come forse mi chiedevano in precedenza nel bienio della scuola è proprio obbligatorio cambiare tutte le parole io direi no assolutamente no anzi potrebbe essere una buona buonissima regola quella di mantenere tutte quelle che possiamo dove troviamo allora l'equilibrio tra il cambiare anche parole come quelle che vi ho evidenziato adesso che tutto sommato sono comprensibili e cambiarle e mantenere invece delle altre rispettare insomma l'originale laddove è necessario farlo beh l'equilibrio è proprio quello della chiarezza e poi una parafrasi può essere compiuta più volte quindi finché non abbiamo davvero rimasticato e compreso fino in fondo tutto il testo non abbiamo paura di semplificare sempre quindi rispettiamo l'originale finché possiamo ma se si fa un passettino nella chiarezza non abbiamo indugi proviamo pure a sostituire questi termini e fatelo anche voi magari stoppando anche in questo passaggio il video nella slide successiva vi mostrerò quelli che sono i miei suggerimenti le mie ipotesi ho come la sensazione che nessuno di voi abbia molto lavorato e abbia davvero stoppato il video ma non importa ricorrerò a scuola sempre alle slide utilizzerò questi video soltanto come ripasso qui ecco il risultato a cui siamo approdati provando a compiere queste ultime sostituzioni e proviamo a leggere il testo davvero ormai è diventato una prosa e si è fatta forse davvero del tutto comprensibile o quasi Beatrice che prima mi fece innamorare mi aveva svelato il dolce aspetto della verità con confutazioni e dimostrazioni e io levai la testa più diritta per parlare tanto quanto si convenne per confessare me stesso corretto e certo ma mi apparve una visione che per vedersi meritenne a sé tanto stretto che non mi ricordai della mia confessione qualche altro piccolo dettaglio ancora mi aiuta magari aggiungere proprio una preposizione articolata una particella pronominale un articolo addirittura in questo caso un fatto piuttosto raro lavorando per sottrazione togliendo quello che è un termine in fondo del nostro obiettivo che è quello della chiarezza e della prosa diventa forse ridondante e inutile quindi togliere un aggettivo non tanto la bella verità ma basta dire la verità letto in prosa ormai tutto risulta quasi chiaro possiamo perfezionare ancora il nostro lavoro completando davvero la nostra parafrasi ci sono degli ulteriori passaggi che in qualche modo possiamo sottolineare delle espressioni che ancora vanno un pochino sviscerate per rendere davvero piano il nostro testo io ve ne suggerisco qualcuna ecco ve le ho evidenziate le vai è facile sì è facile ma non è forse il termine che noi utilizzeremmo è facile anche si convenne ma troviamo anche qui un'espressione forse ancora più congeniale alla nostra espressione più semplice più quotidiana e poi ragioniamo su questa su questa frase confessare me stesso corretto e certo confessare me stesso ma forse non diciamo confessare me stesso e poi cosa vuol dire corretto e certo contestualizziamo Beatrice mi ha dimostrato scientificamente che avevo in testa delle idee sbagliate e quindi adesso sono corretto e siccome mi ha corretto siccome ho capito adesso sono certo ecco come diremmo noi confessare me stesso corretto e certo è ancora un'espressione molto sintetica molto poetica se vogliamo anche troviamo ancora tante alliterazioni pensiamo all'inizio con la C convenne confessare corretto e certo bellissimo sciogliamolo ulteriormente avviciniamoci ancora più alla chiarezza del nostro linguaggio quotidiano e poi che significa che mi apparve una visione che per vedersi me ritenne a sé tanto stretto tanto che non mi ricordai di eccetera cosa vuol dire che me ritenne a sé tanto stretto in che senso una visione può ritenermi a sé così stretto proviamo a sciogliere una visione per vedersi cosa significa per vedersi anche qui prendete se volete qualche prendetevi qualche minuto per riflettere provare a sciogliere a fare questa fatica per poter abilitarvi pian piano alla alla tecnica della parafrasi ecco il risultato finale a cui possiamo arrivare abbiamo sciolto anche quelle ultime zone zone d'ombra Beatrice che prima mi fece innamorare mi aveva svelato il dolce aspetto della verità con confutazioni e dimostrazioni e io alzai la testa più diritta per parlare tanto quanto era necessario per confessare che avevo corretto il mio errore ed ero convinto ma mi apparve una visione che per guardarla attirò tanto il mio sguardo che non mi ricordai della mia confessione ma abbiamo forse davvero raggiunto la chiarezza tutto è diventato improvvisamente semplice e sì forse abbiamo fatto tanta fatica per la strada ma il premio la vittoria è proprio questa abbiamo capito quello che ci sembrava ed era sicuramente anche un testo congeniato conchiuso secondo determinate regole poetiche secondo determinati effetti di senso che abbiamo un po' perso per strada adesso ci è diventato però un testo amico potremmo lavorarci ancora le soluzioni sono tante secondo anche di quello che vogliamo trasmettere e che ci interessa prima nella nostra parafrasi potremmo magari spiegare cosa vuol dire che prima mi fece innamorare prima prima quando beh è un'allusione a molto tempo prima quando si era in vita all'incontro dei nove anni al primo innamoramento e allora forse è bene magari spiegarlo potremmo lavorare persino su una semplice E e io alzai questa E non è semplicemente narrativa è conseguenziale Beatrice mi aveva svelato e mi aveva quindi fatto cambiare l'idea attraverso il suo ragionamento con confutazioni e dimostrazioni quindi perciò di conseguenza così io alzai la testa più diritta per parlare possiamo renderlo ancora più conseguenziale forse logico nel nostro discorso ma stiamo cercando forse ulteriormente delle finezze era solo per dire che il risultato della nostra parafrasi non è mai certo è sempre instabile anzi ogni professore probabilmente mentre legge un testo ogni volta che lo legge lo parafrasa lo parafrasa sempre in maniera differente ma è bene che sia così è un testo fluido e funzionale che ovviamente non potrà mai e poi mai sostituire il testo originale però se ha svolto la sua funzione se ci ha pacificato con il buio la difficoltà l'ermetismo della poesia bene allora possiamo essere contenti e attraversare questa prosa che diventa una pedana per bussare ritornare a leggere il nostro testo originale e forse a godercelo un po' meglio e direi che possiamo farlo torniamo all'inizio completiamo il circolo ermeneutico rileggiamo con la gioia forse adesso di aver capito e di poter scoprire e di gustare meglio la bellezza del testo quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto di bella verità ma avea scoverto provando e riprovando il dolce aspetto e io per confessar corretto e certo me stesso tanto quanto si convenne leva il capo a proferer più erto ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto per vedersi che di mia confession non mi sovvenne non mi sovvenne